Una stagione di turismo partita in fallo a causa di un cortocircuito comunicativo mal gestito che va ad aggiungersi a problemi vecchi di anni, acutizzatisi in questo primo scorcio d'estate. Nell'appena aperto Hotel Charlie in Pesaro, i principali albergatori della città si sono riuniti oggi in una conferenza presieduta dai vertici dell'associazionismo alberghiero cittadino Paolo Costantini, Fabrizio Liva e dal padrone di casa Nardo Filippetti. Un tavolo di confronto su una lista di falle strutturali che non conciliano il rapporto fra le scelte dell'amministrazione comunale e i loro riflessi sull'accoglienza cittadina. La prima problematica purtroppo è che abbiamo fatto un mese di giugno con una bassa affluenza negli alberghi quindi si parla di un calo di presenza rispetto all'anno scorso intorno al 30% e quindi molti alberghi soffrono. Questo sicuramente è dovuto anche a una cattiva pubblicità e una cattiva immagine che si è diffusa sul territorio nazionale per quello che riguarda la purezza delle acque del nostro mare. Si è arrivato addirittura ad affermare che non è nemmeno commestibile il pesce perché comunque vive in un mare inquinato. Tutto questo non è vero quindi la prima cosa che dobbiamo fare è una forte campagna per ribadire che il nostro mare è pulito. Abbiamo la vulnerabilità che si mangia bene e che quindi il nostro pesce è fruibile. La contingenza dell'episodio maltempo si inserisce però in una trascinata permanenza di problematiche sull'arredo del lungomare. L'altra cosa che noi denunciamo oramai da quattro anni dall'epoca del covid ogni anno si fanno sistemazioni provvisionali del lungomare siamo rimasti in Riviera l'unica città che non ha un progetto di un lungomare vero, duraturo e stabile. Oramai nelle altre città addirittura i lungomari sono stati realizzati da Marotta a Rimini ma potrei dire da San Benedetto a Rimini. Noi siamo rimasti l'unica città con tanti finanziamenti arrivati in città, faccio la ripetizione perché deve essere un rafforzativo, che non ha un progetto organico per un lungomare per un arredo urbano serio e bello. L'altra cosa che vogliamo denunciare in questa situazione è anche la situazione per la zona di Levante dove non si è fatto nulla per il Genica. Infatti è stata l'unica zona che in base all'alluvione ci sono stati dei problemi e il ritardo dei lavori su piazzale d'annunzio dove dovranno essere consegnati il 30 giugno ma che molto probabilmente finiranno al 30 luglio anche se la proroga ufficiale è al 17 luglio. Nardo Filippetti, al pari di diversi degli albergatori presenti, ha rimarcato l'incongruenza fra quella che dovrebbe definirsi una destinazione turistica per famiglie e la sregolata zona di Fertimenti che si è costruita a due passi dagli alberghi. Il risultato, secondo gli hotel, è che i turisti si lamentano con buona pace di un regolamento sulla gestione dell'ascolto musica e il livello di decibel che è stato appena stipulato ma che di fatto non sembra né avere efficacia né capacità di controllare il rispetto dell'ordinanza. Noi già dall'anno scorso abbiamo lamentato il fatto che in estate venivano inalzati i decibel di ascolto e quindi abbiamo fatto le nostre azioni e le nostre proposte per poter mediare un po' la situazione. Quest'anno a livello di decibel la situazione è rientrata nella zona coerente alla zona mare, rimane però comunque troppo estesa gli orari, soprattutto nel fine settimana. Questo non porta tanto ad una difficoltà nel gestire le serate ma quanto poi a quello che succede dopo. Ci troviamo alle 2, 3, 4 di notte a dover gestire delle situazioni di ordine pubblico, quindi di persone che escano dai locali, fanno schiamazzo sotto gli alberghi e quindi creano problematiche oltre gli orari consentiti. Per questo chiediamo un maggiore controllo, chiediamo degli interventi mirati e un presidio della zona così come era stato previsto l'anno scorso. Un tema, quello della gestione del divertimento o movida che dir si voglia, che include nella partita non solo gli alberghi ma gli stessi locali. La problematica comune è che ci siamo trovati ad affrontare la sicurezza del lungomare, della parte che in estate è più vissuta, c'è da cittadini che dal turismo e quindi ci siamo trovati giornate, pomeriggi ma anche sere con problemi di sicurezza, con bande di ragazzi che vengono giù creando disagio sia ai cittadini sia alle attività commerciali e contemporaneamente anche alle attività di ristorazione, di hotel. Quindi stiamo preparando un esposto noi come attività commerciali sia al prefetto che a questore, chiedendo una maggiore sicurezza, maggiore controllo nel lungomare, maggiore controllo nei momenti importanti che vengono vissuti nel lungomare, non l'ora di pranzo, l'una, le due, i orari che sono quasi inutili, ma i pomeriggi e le sere dopo cena dove c'è tanta affluenza di gente, quindi è necessario molto più controllo.